Il mare, gli oceani e l'importanza della loro tutela. Nella sede di Focus ai quartieri spagnoli arriva Sea Beyond Ideas Box, una mediateca mobile realizzata da biblioteche senza frontiere. L'organizzazione no profit che lavora per consentire l'accesso all'informazione, all'istruzione e alle risorse culturali ai bambini e giovani cittadini in comunità vulnerabili. Grazie al supporto di Sea Beyond, il programma educativo ideato dal gruppo Prada e condotto dal 2019 in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO con l'obiettivo di creare consapevolezza sulla preservazione dell'oceano e la sua sostenibilità. Ma ascoltiamo la presidente di Focus, Rachele Furfaro. L'obiettivo che si dà Focus è quello di creare, promuovere una cultura ambientale nei giovani, ma sappiamo che lo possiamo fare a partire proprio dai più piccoli costruendo stili di vita diversi da quelli a cui una società consumista ci ha abituati. Non solo libri ma anche tablet, di reader, pc e giochi da tavola, videogames, centinaia di materiali formativi pensati per far conoscere alle nuove generazioni il mare. Ai nostri microfoni Francesca Santoro, senior program officer UNESCO COI. Scopriamo le meraviglie del mare che è un luogo, soprattutto in una città come Napoli, che è parte integrante della cultura, della storia, però probabilmente forse proprio per questo lo diamo per scontato. È importante capire quanto importante sia la biodiversità marina per il nostro presente e soprattutto per il nostro futuro. Per questa ragione lo insegniamo ai bambini perché è importante che loro capiscano che se ne devono prendere cura. Grazie.